Malviventi in azione questa notte al cimitero di Sulmona hanno rubato rame in cinque cappelle di una delle confraternite portando via un bottino ancora da quantificare ma che si annuncia consistente. A fare la mara scoperto intorno alle 9 di questa mattina è stato uno degli addetti. In media della telefonate carabinieri della stazione di Sulmona che sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di rito. Tocca proprio ai militari risalire ai responsabili del furto. Un colpo eseguito con destrezza il che lascia pensare che i malviventi sono ben attrezzati per portare a termine un'operazione di questo genere. Hanno rubato in effetti del materiale ingombrante difficile da trasportare a mano. Il piano dunque sarebbe stato architettato ad opera d'arte. Al momento il cimitero è dotato di una sola telecamera di videosorveglianza non sufficiente per avere sotto controllo la situazione in tutte le zone del luogo santo. In queste ore sono proprio gli addetti e il custode a chiedere l'installazione di più telecamere. morale della favola non c'è pace nemmeno al cimitero.